Francesco Monte ha smesso di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram. Il motivo? Aurora si trova amico conosco con il fidanzato Goffredo e li ha incontrato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, inseparabili dopo il GFVIP sbarcati da qualche giorno sull'isola greca. I quattro allora hanno deciso di andare a cena insieme. Il tutto è stato documentato sui vari profili social. I video e le foto postati dalla Ramazzotti però non sarebbero andati giù a Francesco, ex della Salemi, e quando un follower ha segnalato in direct la situazione ad Aurora, quest'ultimo ha replicato facendosi delle grosse risate. Al momento comunque non è arrivato nessun commento da parte di Monte, che oggi è felicemente fidanzato con Isabella De Candia ed è sempre più lanciato nel mondo della musica. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.